Gigi voto 5,5, uno dei paradossi del calcio perché gioca una buona partita di grande sostanza, di grande solidità fino a un certo punto era serenamente sopra la sufficienza, era intorno al 6,5 ed era stato sicuramente protagonista di un'ottima gara, di grande attenzione poi la sciocchezza che provoca il calcio di rigore abbassa il suo voto lo porta al 5,5, il calcio di rigore prebbe notti sbaglia ma ovviamente dal punto di vista della prestazione del difensore del Toro questo non può fare una differenza, voto 5,5 Grazie